ciao buongiorno come sempre noi facciamo il nostro post come state tutto bene oggi eravate tantissimi diciamo che abbiamo aperto la nostra chiacchierata col mio taglio di capelli nuovo taglio di capelli e si sono contenta perché vi è piaciuto e perché insomma quando si fa un cambiamento poi non sempre lo vi apprezzo soprattutto anche le look ma sono contenta che questo sia andato bene almeno ce l'abbiamo fatta e poi va beh c'è anche chi ha detto che insomma il bordo al color rubino col nero stava bene anche come accoppiate effettivamente non total black oggi ma abbiamo dato anche qualche cosa di colore e poi siete stati tantissimi tra l'altro io come sempre ogni volta mi scrivo anche quello che insomma mi andate a raccontare e allora vabbè avete richiesto anche delle canzoni tra l'altro insomma claudio baglioni mille giorni di te di me da parte di vito e tra l'altro poi convito si è parlato anche un po di di sport e di tennis insomma degli italiani che sono in gara speriamo che con tutti i risultati che hanno ottenuto effettivamente insomma ci portino a così a festeggiare ai australian open tra l'altro vi dico che invece a livello di sci c'è anche marta bassino che insomma la prima mascia se l'era la chiusa al quarto posto speriamo che possa risalire tornare anche lei anche oggi a portarci un'altra medaglia e a festeggiare l'italia in questo caso anche il piemonte e poi c'è chi mi ha parlato insomma di quello che avrebbe cucinato e come sempre voi mi prendete per la gola perché cucinate pesce poi c'è anche della pizza insomma pacchi e mega naturista oggi mancava peter ma sono sempre quelli che così mi danno dei suggerimenti per cosa cucinare poi lo sapete che però io non cucina cioè sono da sola cioè non è che sono da sola ma quando arrivo a casa ahimè non c'è chi cucina per me tutte queste bontà anche se io cerco di mandargliele come influsso ma niente va bene vorrà dire che verrò da voi una volta verrò da voi a mangiare e poi come sempre tanti insomma da da ogni parte del mondo facevamo anche il confronto un po sulle ore no di differenza seconda di dove voi stavate guardando interagendo con la nostra diretta anche karim se non ricordo male insomma sta imparando l'italiano quindi ha chiesto anche delle riviste italiane per poterlo imparare meglio per chi gli piace l'italia gli piacerebbe venire è vero che non possiamo ancora viaggiare o comunque sia adesso bene o male possiamo anche viaggiare un po di più anche con insomma la pandemia e tra l'altro come ci diceva fonso beh lui effettivamente queste state riuscirà a viaggiare un po di più andrà nella zorra che fortuna fonso sono proprio curiosa poi di sapere che cosa avrai trovato e magari ci racconterai nei martedì mattina e poi che cosa ancora beh avete chiesto altre canzoni tra le varie canzoni mega naturista ha richiesto anche auschwitz per ricordare il giorno della memoria quindi il 27 gennaio e io ho trovato la versione insomma di augusto da olio perché secondo me era la versione più più adatta ma c'è anche chi è in qualche modo a ci ha ricordato che proprio legato a questa canzone adesso mi sfugge il nome mannaggia che legato proprio a questa canzone era stato diciamo così spettatore dell'incidente che era successo questo ragazzo dove poi era stata realizzata proprio questa questa canzone insomma ci aveva anche raccontato che sono canando a cercare se lo trovo ancora ci aveva anche raccontato a viner che adesso ve lo vado anche a trovare perché era stata una cosa molto interessante sì avevo 16 anni lavoravo come tipografo nelle ditte del padre del ragazzo che ebbe quell'incidente e allora a modena era il centro della musica italiana tant'è che poi insomma ci dice che non fa più tipografo ma meccanico di bici e moto e modena è padre del beat italiano quindi insomma grazie anche viner per averci raccontato no anche questo episodio legato a un brano che abbiamo passato e poi rifacendoci invece al martedì scorso quando si parlava di cose un pochettino più particolari abbiamo parlato anche di un libro e quindi dicevamo che sono andato a cercare allora le sette morti di evelyn arcastle questo era il libro che ce l'ha consigliato appunto ricordiamo maestro domenico guariglia in occasione anche della puntata precedente di martedì scorso dove parlavamo insomma di di fantasmi e di luoghi un pochettino così spettrali bene martedì prossimo ci ritroviamo come sempre qui per un'altra diretta ma mi piacerebbe insomma che mi potesse suggerire anche qualche dicevo così qualche idea io una ce l'ho già ma non ve la dico perché ve la dirò più avanti nei prossimi giorni e magari insomma da lì potremo nuovamente chiacchierare insieme nel frattempo come sempre vi ringrazio vi dico che potete scrivermi a i mh libro che c'è la libero punto it per mandarmi magari suggerimenti delle idee su che cosa chiacchierare su che cosa raccontare mandare magari anche le ricette visto che mi prendete sempre per la gola oppure una foto anche di dove abitata perché sono donna sono curiosa e poi come sempre tutte queste cose posso magari così metterle in quello che è il nostro appuntamento su patreon simona non solo radio per cui con questo naturalmente è tutto io vi ringrazio vi auguro una buona giornata che rimanete sintonizzati bacio ciao alla prossima grazie